Cucina la pasta Dormiamo nel peggior hotel della mia città Recensioni pessime, posto per bestie, evitare, da filmò Polizia e ambulanza appena arrivati, Chiara era spaventata Entriamo! Questa è la stanza, ci sono due letti, un armadio, poltrone e comodini volanti Perché tocchi sempre? Passo meglio Pino di madonna Qua c'è la doccia e qua ci sono i fornelli, assurdo Ma il balcone e il gaminetto voi ce l'avete? Ma cucina la pasta Anche le scale un po' da rivedere, ma ci sta alla fine Io ho pagato 40 euro e questa è la zona comuni Il posto alla fine era pulito, la signora era gentile Ci ha pure offerto dei dolcetti Non ci campei, ma pensavo peggio Tu ci andresti? Se non mi segui sarei bocciato